Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Allora, oggi torno con un videotag Come sapete io amo questa tipologia di video E oggi faccio anche una collaborazione Con una ragazza super dolcissima e super simpatica Del canale Lily White Io l'adoro e amo tutti i suoi video Perché parla delle cose che io amo di più Quindi film e serie tv E anche i libri, devo dire che sono bellissime le sue recensioni Quindi vi lascio anche il link del suo canale Così andate a darle un'occhiata E andate anche a vedere il video gemello a questo Visto che appunto collaboriamo insieme Oggi appunto parliamo di film E il videotag si chiama The Film Tag Molto semplicemente Sono 12 domande quindi comincio subito con rispondere Numero 1 Il tuo film preferito di sempre Allora penso che ormai vi sarà uscito dalle orbite Perché lo sapete a memoria Il mio preferito di sempre è La Mumia Che è un film fantastico Del 1999 se non sbaglio Del 1998 Quindi gli anni là Ovviamente la prima perché la seconda è carina E la terza non mi è piaciuta La prima è la più bella E sì, La Mumia con Brendan Fraser Poi seconda domanda La tua scena preferita di quel film? Allora, ci sono tante Ma probabilmente le inizio quando viene spiegata appunto la storia Quindi quando spiegano Del re di Tebe Di Imhotep Di Annexun Amun Del tradimento Quello è stato bellissimo Terza domanda Il tuo attore o attrice preferita? Allora, ne ho talmente tanti Cioè non si possono contare sulle ditte di una mano Perché sono troppi Però vi dico quelli principali Allora, due attori maschi principali Sono Chris Hemsworth Che io amo alla follia Sì, ho detto tutto con il nome E l'altro è James Nichols Che è appunto di Winchester Supernatural Loro due sono il mio top di attori Come ti dici invece amo profondamente Jennifer Lawrence Shelley Woodley Amanda Seyfried Megan Fox E anche Rachel McAdams Sono fantastiche Poi, quarta domanda Tipologie di film che ti piace di più? Allora, probabilmente l'horror Penso sia il mio preferito Ma amo anche le commedie Oppure vabbè le saghe Quindi le trilogie E quei film fantasy Anche però Tipo quelli romantici e sentimentali Quinta Quale film horror ti ha spaventata di più? It per un motivo preciso Perché io ho la fobia dei clown Lo so, direte che ho una fobia molto stupida Ma che ci devo fare? Ho la fobia dei clown E quindi it E subito dopo Metterai l'esorcismo di Emily Rose Perché è stato davvero troppo inquietante Sì Un attore che ti ha fatto innamorare da piccola Da piccola Brandon Fraser Perché io ho sei anni Quando ho visto la prima volta la mummia E mi è subito piaciuto quell'uomo Quindi lui Poi Un cattivo di un film preferito Accidenti Ce ne sono tanti Cioè il primo che mi viene in mente In questo momento È Loki decisamente Cioè Loki è il top Cioè Tom Hiddleston Quale film ha superato le tue aspettative E quindi ti è piaciuto? Ha superato le mie aspettative? Probabilmente La grande scommessa E Dal trilogie non si era capito Benissimo di cosa parlava Una volta che ho visto il film Cioè due ore e mezza di film È stato Stupendo Cioè bellissimo Proprio Sono rimasta sconvolta Quale film ti ha delusa? Accidenti Anche qua ce ne sono tanti Se devo dirlo L'uomo d'acciaio Nel senso che Avevo delle grandissime aspettative Per questo film Pensavo che fosse una grandissima figata Perché appunto È la storia di Superman A parte La scelta di Harry Cavill Che io profondamente ho amato Perché io amo Harry Cavill Però Il film Nì Cioè Non mi è proprio piaciuto Numero 10 Un remake che ti piacerebbe fosse creato Allora Se si intende remake di un film già fatto La babbo l'assassino Cioè io Vorrei vedere Chucky Versione 2016 Perché ovviamente La prima volta che è uscito il film Era appunto Fin degli anni 80 Quindi un po' di tempo fa Assolutamente vorrei vederlo Perché è una cosa fantastica Quel film Ultime due domande Undicesima Il primo film che hai visto al cinema È stato Harry Potter Il secondo mi pare O il primo No il secondo Perché il primo era su un teatro Il secondo di Harry Potter La camera dei segreti Sì Che avevo tipo sette anni Una cosa del genere Ultima domanda Ti è piaciuto questo tag? Tag a tre persone Ok che non è proprio una domanda Però ok Allora Questo tag mi è piaciuto moltissimo E infatti ringrazio Lily Per avermi Detto di fare questa collaborazione Perché è fantastico questo tag Come sai Io amo i film Quindi mi capisci Visto che anche tu li ami Allora Tagghiamo a tre persone E vediamo Ok allora Dire che taggo Jess Pages Perché anche lei È una partita di film Come me Giulia Genis Che è da un po' Che non ti taggo Cioè dai Rispondi a qualche tag Fai qualcosa E dico anche la Sara Perché so che anche tu Sei appassionata di film Come me Anche se preferisci Probabilmente i libri E le serie tv Ma guardi anche te Tanti film Quindi direi anche la Sarita Ok Il video tag è finito Io spero vi sia piaciuto Se è così come al solito Lasciate un pollice in su E se avete qualcosa Dite tutto Sempre qua sotto Nei commenti Ringrazio ancora Lili Per avere collaborato Insieme a me E dovremo rifarlo Più spesso E ricordatevi di passare Appunto nel suo canale A vedere il suo video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao